amici di alessandro tech world buongiorno video che sto girando in 4k con il nuovo samsung galaxy s6 lo stabilizzatore ottico è stato disattivato di default perché non è possibile lasciarlo attivo con la modalità 4k fuoco continuo a display su questo super amoled plus di samsung davvero strabiliante senza senza parole andiamo a vedere come riprende con il sole un po in condizioni a nostro sfavore devo dire che la reazione abbastanza buona andiamo a fare una ripresa panoramica mi soffermo un po sulla casa così potete vedere la bontà della qualità di questo video ok adesso andiamo a fare un piccolo zoom su su altre piante eccoci qua sulla solita nostra pianta vediamo un attimino guardate la qualità del display anzi più che la qualità del video devo dire che è davvero davvero ottimo e poi veramente fluido quella qual la solita nostra lunetta ecco abbiamo i nostri pinettini devo dire che a display risulta davvero fantastico anche la messa la messa a fuoco è veramente super istantanea perché vedete adesso ha messo a fuoco i pinetti adesso io mi avvicino qui e mette a fuoco senza nessun tipo di problema questo piccolo anno affiatoio quindi devo dire che questo samsung galaxy s6 fa video davvero molto belli vi lascio con un'altra panoramica ecco qua vi lascio con una panoramica intanto potete vedere anche la macchina così avete anche la fluidità ripeto video che ho girato in 4k con il nuovo samsung galaxy s6